Buonasera a tutti, siamo qui per presentare un piano di azione contro la criminalità organizzata calabrese voluto dal ministro dell'interno a cui tutte le forze di polizia concorrono per affrontare in maniera organica e strategica le iniziative contro l'antanqueta d'intesa con l'autorità giudiziaria sia con il procuratore nazionale antimafia e sulla base anche delle richieste che sono pervenute dalle procure distruttuali antimafia di Reggio Calabria e di Catanzaro. Il piano di azione è basato su tre livelli, un primo livello che attiene prevalentemente al controllo del territorio con le risorse che sono già disponibili sul territorio e con risorse aggiuntive. Il tutto avverrà in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria sia per quanto riguarda l'attività investigativa diretta volta non soltanto alla cattura dei latitanti ma soprattutto per quel che riguarda la individuazione dei patrimoni e quindi tutte le misure di prevenzione. Misure di prevenzione soprattutto quelle patrimoniali ma anche quelle di tipo personale che sono gestite in maniera distribuita tra le forze di polizia con un prevalente impegno poi da parte della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia. La ricerca dei latitanti è un altro obiettivo d'intesa con l'autorità giudiziaria. Le forze di polizia hanno stabilito un tavolo nel quale suddividono i latitanti tra i vari gruppi investigativi in modo tale che non ci siano sovrapposizioni o frammentazioni e chi può fornisce agli altri un contributo informativo. Vi è un secondo passo di questa azione che il Ministro dell'Interno fissa in una sua direttiva attraverso una conferenza che verrà svolta regionale dell'autorità di pubblica sicurezza a Reggio Colabria dove le forze di polizia insieme con la DIA utilizzeranno delle risorse aggiuntive di circa 800 unità, 355 unità che sono i reparti prevenzioni crimine della Polizia di Stato e i CIO dei Carabinieri, un ampio numero di nuovi investigatori che saranno 155 saranno trasferiti nelle prossime settimane, forse anche nei prossimi mesi, a rinforzare gli uffici centrali e poi un'assegnazione di personale di tutte le forze di polizia del Carabinieri, Finanza, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato che si attiveranno per delle specifiche competenze per rimpiazzare attraverso un meccanismo di trasferimento a rotazione tutte le risorse che sul territorio verranno a mancare. Poi vi è un secondo livello del piano di azione, come sapete la criminalità organizzata calabrese non è stanziale, non opera soltanto sul territorio di riferimento ma sviluppa tutta la sua azione sul territorio nazionale e quindi saranno coinvolte anche le altre regioni dove è stata registrato, si registra una maggiore presenza dell'organizzazione criminale calabrese, il Lazio, una parte dell'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Lì sempre le indicazioni del Ministro saranno gestite delle conferenze regionali delle autorità di pubblica sicurezza da parte dei prefetti proprio per dividere tutte queste iniziative che saranno specificamente programmate e che riguardano essenzialmente i due elementi fondamentali che riguardano le attività investigative per la individuazione delle iniziative economiche che vengono svolte dall'organizzazione criminale in questo territorio, in questi territori dove maggiormente viene registrata un'infiltrazione del sistema produttivo e le aggressioni ai patrimoni accumulati per poter impoverire le organizzazioni stesse. Anche qui l'impegno particolare sarà svolto dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Investigativa Antimafia. Ma ancora noi ci proiettiamo in un livello ancora ulteriore che è un terzo livello. Le organizzazioni criminali, le indrine calabrese, purtroppo sono proiettate in tutto il territorio non soltanto nazionale ma anche all'estero. Motivo per il quale noi abbiamo attivato tutta la rete degli esperti che sono 50 uffici che la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha costituito in tutto il mondo, 5 uffici regionali con 50 esperti sul territorio appartenenti alle tre forze di polizia che opereranno sia per la individuazione dei latitanti che di norma si rifugiano all'estero o che svolgono le loro attività, soprattutto quelle nel settore del traffico degli stupefacenti dove l'andrangheta ha un ruolo particolarmente rilevante. Questa rete quindi i tre livelli di cui abbiamo parlato in coordinamento tra di loro, di intesa con le autorità giuriziarie, di intesa le forze di polizia a livello regionale, a livello nazionale, a livello internazionale attaccheranno questa realtà in maniera organica. A disposizione di queste strutture verranno messe delle nuove tecnologie per la lotta al crimine che in questo momento saranno particolarmente dedicate all'attività contro l'andrangheta ma man mano poi verranno distribuite su tutte le strutture che operano a livello nazionale. In particolar modo le nuove tecnologie per la lotta al crimine si basano intanto su un sistema informativo interforze che significa che i vari sistemi informativi delle forze di polizia, della banca dati, delle forze di polizia costituite per essere la direzione centrale della polizia criminale, tutte le sue interconnessioni con gli sistemi di indagine e in particolar modo il sistema di georeferenziazione, io poi ve li analizzo uno dopo analiticamente, il cosiddetto sistema copre che è la georeferenziazione attraverso il cuscotto operativo e il sistema di supporto alle decisioni con l'integrazione del sistema macro e di tutte le banche dati a cui si può accedere daranno l'opportunità alle strutture investigative sul territorio, sia per quanto riguarda l'azione investigativa diretta, per quanto riguarda l'individuazione dei patrimoni, di poter sfruttare le varie opportunità e soprattutto di poter contribuire con un sistema informativo particolarmente qualificato a prendere decisioni, a sviluppare e a indirizzare l'azione investigativa. I vari meccanismi di cui stiamo parlando si diversificano per varie tipologie. Il sistema di georeferenziazione dei reati ha una valenza importantissima per le attività investigative perché consente ai singoli investigatori di analizzare le informazioni sia sulla base dei singoli soggetti, sia la base delle metodologie, sulla base del rapporto spazio-temporale in cui queste attività sono avvenute e l'insieme di queste informazioni consente anche di utilizzare al meglio le risorse di cui si dispone, quindi una concentrazione nelle fasce orarie, nelle località dove i fenomeni si diffondono maggiormente. Questo è un esempio, sono degli esempi esclusivamente simulati, quindi tutti i dati che si potessero leggere sono dati del tutto simulati. Come vedete nel riquadro di sinistra sono indicate una serie di tipologie di reato in tutta Italia. Per ognuno di quei puntini è possibile passare a una individuazione capillare addirittura attraverso il sistema di georeferenziazione, arrivare al luogo preciso dove il fatto è accaduto e analizzare addirittura il luogo. Ma soprattutto adesso sono collegate tutte le informazioni relative ai singoli fatti criminosi che vanno dall'individuazione del reato alle modalità esecutive, i tempi, le condizioni in cui il fatto è accaduto. Accanto a questo vi è la possibilità di utilizzare un sistema di georeferenziazione di tutte le attività di controllo che sono state svolte sul territorio. In questa circostanza c'è la Calabria dove vedete in un ambito molto dettagliato ci sono vari colori che sono i controlli svolte dalle varie forze di polizia. Quelli che sono in grigio sono invece i controlli ripetuti più volte. Ognuno di questi controlli ha portato alla indicazione, all'individuazione di automezzi, di persone, di beni, di oggetti, attinenti che sono tutti elencati, qui vedrete tutte delle X che groppano i dati, ma sono tutti gli elementi informativi connessi ai singoli controlli e connessi alle singole attività informative e di questo disporranno gli investigatori a tutti i livelli operativi. Mentre poi esiste il sistema informativo macro che invece è riservato particolarmente agli investigatori di livello più elevato. Il supporto investigativo macro è un supporto investigativo che consente la mappatura dei soggetti e delle organizzazioni di tipo criminale, tutte le interrelazioni che tra loro si scambiano, le attività, le organizzazioni come sono collegate alle varie organizzazioni e tutti i rapporti tra i singoli cittadini. Questo pacchetto di strumenti è messo già attualmente a disposizione degli investigatori calabresi e di tutti coloro che andranno a supportare l'azione e nelle prossime settimane tutti i sistemi, perché alcuni di questi già sono in fase sperimentale utilizzate, altri sono stati rilasciati in questo momento, saranno disponibili per poter meglio portare avanti l'azione e attuare al meglio il piano di azione nazionale contro l'andrangheta. Io ho finito. Ringrazio davvero calorosamente il capo della polizia, il direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza, il prefetto Alessandro Panza, perché con grande zelo, celerità ed efficienza insieme a tutta la struttura del Dipartimento e insieme a tutta la struttura ministeriale ha realizzato esattamente ciò che ci eravamo prefissi di realizzare, ossia un piano contro l'andrangheta che abbia come scopo quello di non dare tregua all'andrangheta e agli indranghetisti. L'obiettivo è non dargli tregua, perché oggi è ritenuta la organizzazione criminale più pericolosa ed è una organizzazione criminale che ha un radicamento fortissimo in Calabria, ma che ha manifestato una grande capacità di penetrazione in altre zone del nostro territorio nazionale ed anche in altre parti del mondo. Il dato calabrese è particolarmente significativo sul piano dei numeri ed è un numero che io vi do non sotto il profilo delle collusioni possibili ovviamente, ma sotto il profilo di atti ufficiali con precedenti di polizia o precedenti giudiziari. Stiamo parlando in Calabria di 160 organizzazioni censite sul territorio calabrese attraverso il sistema macro, cioè il sistema di mappatura della criminalità organizzata con oltre 4.300 affiliati, esattamente 4.389. Ci riferiamo, e ho il piacere di salutare nel dirlo al Procuratore nazionale antimafia, ripeto, a soggetti censiti in base ad atti ufficiali precedenti di polizia o precedenti giudiziari. Quindi 160 organizzazioni criminali censite nel sistema di mappatura della criminalità organizzata e 4.389 affiliati. Il nostro scopo è non dare tregua. Non dare tregua significa potenziare tutto ciò che contrasta il sistema andranghetista. A livello territoriale, ed è il primo livello di cui parlava il capo della polizia, il prefetto Panza, questo significherà anche un'attenzione, un riflettore acceso con il sistema cosiddetto sciamano, e qui sta collaborando moltissimo anche la prefettura di Reggio che ne è protagonista, un sistema di penetrante vigilanza sui cantieri. Noi vogliamo essere presenti sui cantieri perché attraverso la presenza noi garantiamo più libertà di impresa perché assicuriamo una minore infiltrazione della criminalità organizzata. Il nostro obiettivo è quello di ricercare le infiltrazioni, ricercare i patrimoni illecitamente accumulati, ricercare i latitanti. Su questo scacchiere strategico abbiamo deciso di investire tutte le risorse di cui il Ministero e in essenza poi il Paese dispone. A cominciare dal sistema delle forze dell'ordine sul territorio, e io ringrazio qui per la presenza il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Generale Gallitelli e il Generale Capolupo, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, perché ci consentiranno una presenza molto significativa dei loro corpi, i loro corpi da loro guidati su tutto il territorio calabrese e non solo. Così come ringrazio anche il Corpo Forestale perché ci dà una grande mano d'aiuto. I numeri sono importanti e vedono protagonista anche la forestale perché sapete il controllo boschivo come sta funzionando e quanto le procure abbiano cominciato ormai da tempo a fidarsi del Corpo Forestale dello Stato come un corpo di polizia giudiziaria affidabile sul settore di sua competenza. Aggiungo che i numeri sono numeri importanti perché questo più 155 uomini per le attività investigative, 355 per il controllo del territorio e 290 in assegnazione per le attività investigative e di ulteriore controllo del territorio sono numeri davvero importanti. Il primo livello dunque è il livello calabrese, proprio lì sul territorio per contrastare quei numeri che ho detto poco fa e cioè 160 organizzazioni criminali e 4389 affiliati sul territorio. L'asse è Calabria, il resto del territorio nazionale e poi il livello internazionale. Sul resto del territorio nazionale ovviamente non c'è una regione d'Italia dove la vigilanza si abbassa, non c'è una regione d'Italia dove il livello di attenzione si attenui, per nulla, ma ci sono alcune regioni del nostro Paese e abbiamo individuato in primo luogo il Lazio, l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Liguria e il Piemonte dove il focus sull'andrangheta è particolarmente intenso perché vi sono rilievi di indagine, rilievi inquirenti che manifestano con grande evidenza il livello di penetrazione dell'andrangheta, il livello di infiltrazione anche in attività lecite. Voi sapete che l'andrangheta ha maturato particolare abilità nel riciclaggio di denaro e nella infiltrazione criminale dentro le attività lecite, dentro le attività legali. Su questo livello nazionale il nostro dipartimento è attivo e presente con le modalità che vi ha fatto già presente il prefetto Panza e l'altro livello ancora è rappresentato dal livello internazionale. I cinque hub diciamo, il capo della Polizia li ha chiamati i cinque uffici regionali per il coordinamento di aree di riferimento. Io li chiamo hub perché rappresentano esattamente la centrale logistica organizzativa attraverso cui si diffonde una vigilanza su territori più ampi rispetto a quelli dove assede il nostro ufficio perché Parigi interviene sull'Europa occidentale e sull'Africa occidentale, Bucarest interviene per i Balcani e l'Europa orientale, Brasilia per l'America del Sud, New York per l'America del Nord e per l'America centrale e Teheran per l'Africa orientale, l'Asia e l'Oceania. Si tratta di interventi che sono di vigilanza, di monitoraggio, di controllo sulle attività che si sospettano essere presenti in quelle zone del mondo ed è stata anche concordata l'apertura di nuovi uffici in Canada, in Pakistan, in Algeria, in Tunisia, in Ghana, nella Repubblica Domenicana, anche a Miami e in Australia, proprio in considerazione di una folta comunità italiana presente in quel territorio e degli accertati legami di quel territorio con organizzazioni malavitose italiane. E questo perché per il futuro l'orientamento è proprio quello di intensificare lo scambio di informazioni e soprattutto sui fenomeni criminali emergenti. Avete avuto modo di vedere attraverso le slide quanto valgano per noi le informazioni. Quindi come noi tentiamo di mettere a fattore comune tutte le informazioni di cui le forze di polizia sono in possesso attraverso delle vere e proprie centrali statistiche che danno poi vita all'incrocio tra tutte le masse informative. Mi riferisco in primo luogo alla mappa della criminalità organizzata di cui parlavo prima, cioè al sistema macro e in secondo luogo al sistema di georeferenziazione dei reati. La interconnessione di queste banche dati rappresenta il vero patrimonio della storia dell'azione contro la criminalità organizzata nel nostro Paese. Noi abbiamo ovviamente un radicamento sul territorio che è molto forte ed è incentrato sulle prefetture che rappresentano sul territorio esattamente il punto di snodo di un'azione di coordinamento nella fase di contrasto all'Andrangheta che è importantissima dal nostro punto di vista. Ed è esattamente per questo che oggi qui davanti a voi io firmerò la direttiva che è esattamente inviata al prefetto di Reggio Calabria, al prefetto di Catanzaro, al prefetto di Cosenza, al prefetto di Crotone, al prefetto di Vibo Valencia e a tutti i prefetti della Repubblica che sono informati per conoscenza di questa mia direttiva. Aggiungo e lo faccio con piacere che il nostro lavoro è stato un lavoro effettuato in sinergia con la magistratura. Noi abbiamo avuto modo di sentire il procuratore distrettuale di Reggio Calabria e il procuratore distrettuale di Catanzaro, di ascoltare il procuratore nazionale antimafia e di lavorare con loro per mettere la squadra Stato tutta in condizioni di giocare compatta. Per cui i prefetti che hanno un determinato compito, le forze dell'ordine, la magistratura è avere una sorta di desk permanente sul territorio che consenta di mettere insieme le singole professionalità per contrastare l'andrangheta. Avete colto che nel piano nazionale di contrasto all'andrangheta vi è essenzialmente un dispiegamento più efficiente di uomini e mezzi, ma soprattutto a Monte vi è una strategia organica di contrasto con i nostri piani di cattura dei latitanti e con l'azione di intercettazione delle infiltrazioni criminali nei cantieri, nelle attività lecite e sul territorio non solo calabrese ma del resto d'Italia e nel sistema della criminalità anche a livello internazionale. Io dunque firmerò questa direttiva proprio oggi e questa direttiva darà mandato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e ai prefetti di realizzare esattamente questo piano. L'abbiamo voluto chiamare nell'ambito del Focus on Crime, proprio la destinazione del Focus on Crime sulla Andrangheta e pensiamo che questo sia un modo efficace e moderno di contrasto alla criminalità organizzata. Come il sistema della sicurezza si è evoluto al punto da poterci consentire di dire che noi dobbiamo tagliare su misura progetti di sicurezza per i singoli territori anche nel contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata noi abbiamo intenzione di fare dei piani strategici mirati. Questo ci sembrava e ci sembra il più urgente e su questo lo Stato non risparmierà nessuna energia proprio con l'obiettivo di cui parlavo in premessa che è quello di non dare tregua all'andrangheta.